Salve a tutti, io sono Chris e benvenuti o bentornati su questo canale di crescita personale Oggi sono qui con questo nuovo video un po' particolare poiché l'argomento di cui vado a parlarvi oggi non è il solito argomento di crescita personale ma è un qualcosa che mi riguarda molto da vicino e che diciamo comunque si ricollega ovviamente con il canale e con l'obiettivo che ho per quel che riguarda proprio YouTube poiché c'è stato un upgrade che è quello della videocamera infatti in questo momento sto utilizzando un iPhone 13 e sono felicissimo di questo upgrade perché vi giuro la qualità penso che sia migliorata tantissimo ci ho pensato tanto, davvero tanto a fare questo upgrade perché comunque è un investimento per il futuro dato che voglio che YouTube diventi il mio lavoro ovviamente ce la mettevo già tutta prima ma ora ce la metterò ancora di più e sono strafelice appunto che ora la qualità sia così tanta e come vi dicevo però ci ho pensato davvero tanto perché appunto non sono neanche ancora 500 iscritti che sarebbe la metà per far partire la monetizzazione come vi ho detto però appunto è stato un investimento per il futuro che spero possa pagare e che ovviamente migliorerà tantissimo la qualità delle riprese e questo mi permetterà ovviamente di creare molti più contenuti e qualità superiori sia qui che su Instagram cosa che davvero non vedo l'ora di realizzare tra l'altro venerdì proprio per quel che riguarda Instagram esce un progetto incredibile sul mio profilo vi invito quindi a seguirmi lo trovate in questo momento in sovraimpressione e qui sotto in descrizione ma poi di questo venerdì ve ne parlerò meglio ma per il momento ho voluto fare questo video al volo proprio per intanto caricare qualcosa perché non era previsto questo video avrei fatto direttamente il video venerdì per spiegarvi il tutto ma ovviamente volevo parlarvi di questo upgrade perché non stavo più nella pelle volevo parlarvene assolutamente quindi spero che la qualità si veda e spero che tra l'altro si veda la mia felicità che è la cosa più importante come vi dicevo è un investimento per il futuro che spero possa pagare tutti i miei sforzi questo non significa che ovviamente contenuti proprio a livello di qualità non video ma contenuti veri e propri quindi la sostanza del video possa peggiorare anzi farò il possibile per migliorare anche quella quindi se avete dei consigli ovviamente sono apertissimi a questo noi ci vediamo venerdì con il lancio del nuovo progetto da che vi sparoggi è tutto mi raccomando un like, un commento e un'iscrizione puntiamo subito ai 500 e poi rotta ai 1000 grazie mille per tutto il supporto e a presto grazie mille per l'altro 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 grazie mille per l'altro